Who's ready for some fun? Well, don't everybody answer it once! BattleBlock Theater! Bust some heads! Push your friend and watch him die! Go up there now! Well, that's a nice trick! Kill your friend again, huh? Again! BattleBlock Theater! Esatto, anche perché a quanto fa in sto gioco se... Se un mamma... No, bisogna farsi scivolare! Corri, corri! Ah, cacchio! Devi correre! No, aspetta! Non ho visto mai la scala! Ma dove fai questa quetta? Io la prendo sempre di sorpresa! Si, sempre! Mi piglio gli infatti! No, dai, dovevo abbassarle! Ma io come ti raggiungo? Non lo so, non lo voglio sapere! Faccio finta... No, giù! Dai giù! Spingi il sasso! Spingi il sasso! Ah, il sasso! Spingilo! Mollalo! Mollalo! È sparito! Infatti! Era sparito! Magico! Oh! Basta! Ma non mi sono abbassata! Vabbè, dai, c'è il check! Ma perché non mi ha fatto il check? No, ti prego, non là in fondo! Sì! Ci occupo! Ha fatto là in fondo! Con queste teste! Aspetta! Che c'è un tizio che fa? Oh! 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 Sì! Anche a me mi inquieta abbastanza! No! Siamo morti assieme! Che carine! Eh, dove dovremmo andare, però? Non sto capendo! Io sto qua dietro, basta! No! Mi prego, basta! Oh! Ma dove ti puoi andare? Vedi qua! Scazzarola! Vabbè, dai, che ammazzo! Ah, ok! Ah, va bene! No, io non l'avevo visto, sto tasto! Ok! Ok! No! Perché? Vieni qua! No! Stavo dicendo ci stiamo in due! Ok! Leva di dal tasto un po' Ah, cavolo, è sul tasto! Perchè non manco qualcosa! Salta! Ok! Va bene! Ma no, sto aggeggio! Aspetta! Vai, lo attiro! Chiudiamolo qua, aspetta! Vediamo se mi sei... Ok, mi sacrifico! Resta lì, eh! Vieni aggeggio! Vieni aggeggio! Ma è scemo! È proprio scemo! Vieni aggeggio! Vieni aggeggio! Vieni aggeggio! Sennò io che ho la spirapolvere! Mo ti seguo! Eh, ma io di là ci devo passare! Devo prendere il gomitolo! Vimmi che passa quella sega qua sotto! Mo ti seguo tutto! Oh, non ci credo mai! Grande, Messi! Presa! Ok! Ma scusami! Ti prego scuse! Ho fatto apposta! No, ma resta lì, eh! Sì, sì! Se qui tu vai sul tasto e liberi... Non volevo! Portare su questo? Ma mi sa che non ci può! No, perché... No, no! È giusto quello! Se io faccio così... Vedi? Così noi possiamo passare! È giusto, è giusto! Aspetta che lo chiudo! Ma no! Ah, ce l'ha presa lui! Ah, no! L'hai presa tu, diamante! Ah, figo! Per la prima volta è stato utile! Davvero! Vai! Ok! Dai! Ah, mamma mia! Non ce l'ho fatta! Vai, tu ce la fai! Prendilo però! Prendilo! Oh mamma, non l'ho visto mai! Ah, perché mi era scompasso l'altro, ho capito! Allora! Oh! Il doppio! Non mi fa il doppio a me! Non lo so! Vabbè! Va bene! Ok! Arrivo! Cioè io arrivo per... Per morire male del nulla! Per essere lanciata via verso l'infinito! Si vuole con tutta la fiducia! Arrivo! Aspetta che rinasce! A me non mi fa il doppio! Non ci arrivo lì! Ok! Arrivo! Ah, sei qua! Bene! E adesso? Adesso... Aspetta! No, aspetta! Ah, ok! Sì! Ma io muoio così! Ah, quello era per fare arrivare a me! Non serve un tubo! È brava! Bene! E adesso? Adesso lo rimetto! Vai a prendere! Ah, ok! Grande! Vai a prendere se riesci! Eh, vado! No! Sono caduta leggermente più di là! Eh, ma... Mi devi lanciare troppo! No, no! Ce l'avevo fatta io! Ah, sì? Ah, già! Imbecille che so! Non so perché non sono arrivata! Tadam! Ok! Ci siamo scambiate! Vai di brutto! Dove stai andando tu? Cosa bisogna fare? L'ho preso, l'ho preso! Ah! C'era un diamante! Mi avvisovi! Su qua che rimbalzo! Va bene! Qua check! E qua non c'è niente! No, via da qua! Ok! E ora? Ah! Lì! Dovevi... No! In alto! In alto! In alto! In alto! Agganciati! Ok! Aspetta! Aspetta! Vai! Vai! Salta lì! Aspetta! Ok! E cosa ho fatto? Tira quello! Ecco beh! Mettilo lì! Non toglilo allora! Non so! Aspetta! E se faccio così? No! Cambia un cazzo! Vieni via! Cosa fa? Credo sia giusto! Vieni indietro! Ha tolto i cubetti! Ok! Quindi io ti raggiungo! Dobbiamo salire! Eh! Ah! Sì! Ci sono i jetpack! Ci sono per salire! Eh! Ma io non ce la arrivo! Dai! Dai! Ma non poteva riappare! No! Ce la fai! Qua ce la fai! Aspetta! Ok! Fatto! Prendimi! Ok ce l'ho fatta! Scusa! Scusa! Tutta l'ansia! No! Non è finito! Ah! Che ansia! Quella roba l'ho fatta! Vabbè! Abbiamo finito il tris anche di quest'altopiano a quanto fa! Perché io gli salo in testa quando usciano le forze? Non lo so! Era un buon abitudine! Infatti sto perdendo i capelli! Come vedi! Cioè! Basta! Va niente! Ci siamo cambiati perché abbiamo sbloccato robe belle! Circa! Siamo molto egocentri che ci cambiamo spesso! Io cambio skin! Ok! Quasi quanto i vestiti normali! Esatto! Oh male! Eh! Eh! Ho sbagliatissimo! Ok! Qui la musichetta faiga! No! Stavo scendendo a scendere un momento sbagliato! Sto scendo scelta ho detto! Ok! No! Dovevi rimbalzare qua! Aspetta! Lo faccio io! E non salgo però! Allora no! Serviva soltanto per... No! Vai! No! Prima dovevi andare! Aspetta! Che mi lancia al contrario lei! Ah! Non volevi andare di qua? Ah! Capito male! Ah! Vedi! E' vero che ti dico! Si può salire anche di là! Allora tu... Mentre tu sei di là io ne puoi salire di qua! Esatto! Eh! Ti ho detto c'era qualcosa che non tornava in questa vita! Ok! Aspetta che faccio... Va bene! Raggiungimi! Guarda questo vecchietto sprint! Mamma mia! Ma che pensionati l'ha riscossa! Esatto! Perché non scende? No! Ho sbagliato! Pensavo che... Mi toglievano l'anima quel coso! Ecco! Perché vabbè! In alto c'è la morte! Va bene! Do... Dove sono? Nel nulla! Nel nulla dipinto di blu! Ma guarda dove ne hanno nascosto uno! Come fai a trovare tutti? Ti aggeggi! Aspetta! 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 Perché non ho avuto la tempistica! L'avevo vista io! Ok! Mi stai facendo morire il gioco! Non so se te ne rendi conto! Tiè! Tiè! No Messi! Mamma mia che lancio tutto! Perché mi spingiava? Ecco! Non ci credo! Mi fa morire a me sta cosa! Ma dai basta! Io morirò così! Basta! Boba! Vabbè! Guarda che schiacciata sto vecchiettino sprint! Ah! Questo non muore! Ok! Ah! Eh no! Puoi scompare però! Eh però l'ho preso! Vai avanti! Sì! Ok! Vieni! L'ho fatta! L'ho fatta! Ho più le palline! Ecco! Mannaggia! Vai giù! Vai giù! No ho sbagliato! Devo stare su! Vai! Ok! Ok! Eh! Vabbè io muoio! Bravo! Questo ce l'hai messo tu? Questo ce l'hai messo tu? No era già lì! Sì! No! Non si riesce! No! È vero! Non si riesce! Ok! C'è il gomitolo là! Dai messi in su! Concentrazione! Ok! Levati! No! No! Resta lì comunque! Ah! Ok! Piano piano pianino! Ma... Eh! Su lexit! Ok! Va bene! Vabbè ma dicevi che ce ne mancano un casino! Eh! Ne mancano due di diamanti! Dobbiamo andare dalla parte di là! A sinistra! Se la stavo facendo eh! Se vi scalmate un attimo tutti quanti! Scalmatevi subito! Se vi scalmate un attimo! Scalmanati! Sì dai! Sono d'accordo di uscire! Muoviti! Sono d'accordo! Ma potevamo fare il pulsante vuoi uscire davvero! No! Però voglio dire! Vabbè ma potevamo avvisarci però che erano cinque! E come fai a saperlo? Vabbè! E qui ritorniamo al discorso iniziale! Perché non hanno messo un contatore serio invece che sono un indicatore del cavolo? Esatto! Mamma mia che spaventano! È un micoista! Ricori! Troppo tardi! Tanto... Ma non penso ci sia qualcosa però! Spero per noi! Vabbè! Aspetta! Aspetta! Vai! Ah! Ok! Aspetta! Ok! Ma guarda che non mi usa! Ma guarda che non mi usa! È successo all'introvviso! La scelta! È che tu non mi hai usata! Ma porca paletta! No! No levatevi! Aspetta! Usami! Usami! Sono utile! E ti ho usato la scaletta tipo! Ok! I maialini! Sei contento? E il gomito? Però bisogna prendere esatto! No! Da sotto! Mio! Mamma mia! Vabbè hai fregato il maiale! Non ti ho fregato il maiale! Come si fa a saltare col maiale? Ah si è tornato all'inizio! Guarda! Hai visto allora che si faceva? Come faccio a saltare col maiale? Salta da solo! È intelligente! Ah sì? Allora me lo ricordavo mica io eh! E ora nell'acqua! Però non so come si fa lì! E ora? No dai vieni con noi! Ti insegnerò la canzone della felicità! Basta! Perché ho già provato e non si riesce a passare! No no si riesce che dovremmo essere in due! No no fidati ci abbiamo provato prima non si passava! E non abbiamo provato da sopra sicuramente c'è qualche cubetto incorporeo! Se andiamo avanti ah me ne abbiamo perso i cubetti! E si i cubetti! Il gomito! Grazie! Ti ho salvato! Ci ho provato! Oh mamma! Fai jogging vecchietto! Fai jogging! Fai jogging! Fai jogging! No! Allora Mikoto ce la deve fare! Hai capito? Ho aspettato Mikoto perché voglio fare questo! Sono anche morta! Ti aspetto! Ah porca miseria! Via via via! Ok! E ora? Si! No! Vabbè! Vabbè vai avanti! Dove arrivo? Ok! Oh mamma! Che culo! Che culone! Ti ho anche preso al volo! Guardate! No devi stare sotto! Scendi! Ok arrivo! Vai indietro! Dall'altra parte! Ferma lì! Ok! Ok! Vabbè! Ah no! Mi nasco qua! Ma perché? Che cosa fanno con i check? Allora cosa li prendiamo a fare? Ma non ci arrivi proprio! No! Ah si ci arrivi! Ok! Al millilitro! Millilitro! Perché ho visto l'acqua! Nooo! L'acqua! Nooo! L'acqua! Nooo! Brutta! Cattia l'acqua! Te l'ho convinta di arrivarsi! Ok! Io spero fossero solo questi e abbiamo perso solo il gatto! Non lo so! Se no mi arrabbi! Adesso non lo so più quanti sono! Possono essere random! Che non te lo aspetti! Tipo qua erano sei! In realtà però! Oh siamo una cosa sola! Era una cosa sola! Siamo una cosa sola! Eh si! Avevamo un vecchio barbuto con la cosa da papera! Sì! Oh mamma! Ci vedevo uno sopra l'altro! Mi conto salta là dove c'è la maniglia! Arrivo! Oh mamma! Sopra! Eh ho visto! Sì ho capito! È successo per caso! Vai! Vai su! Sali! 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 Ok! E ora? Non c'è altro! Dove l'ha messo? No! Dove l'ha messo il... Oh mamma! Non lo vedo! Vabbè! Il cappello dici! Bella domanda! Vai! Ok! Torna! No! Spegnero quello! Spegnero! Spegnero! Come devo spegnerlo? Eh c'eri sopra! L'avevi spento! Eh boh! Esci! Vedi che c'è quel tastino! Sai che non ho capito mica! Vedi che sei sopra un tasto! Eh sì! Eh se lo schiacci si spegne il ventilatore! Ah non devo tenerlo! No no! Qua sotto sono! Guarda che infami! Ah l'avevo vista in effetti in una forma stramba! Ok vai passa! Vabbè! Arrivi ok! Sì sì! Cosa c'è? Ah ok! Aspetta! Ok! Ma questa! Ma questa! Ma che belli i quadratini rossi! C'erano mancati eh! Tantissimi! Stavo cercando di scappare! Ma c'era l'acqua! Non ci ho visto mai! Ma io come faccio poi? Ah ok! Devo... Devo saltare! Non avevo mica capito eh! Ma no! Che cavolo! Ah è vero c'è rompipalle! Questo non ti uccide subito! Schiaccia quel tasto lì! Spera! Stavo cercando di ucc... Ho fatto una cazzata vero? No no! Vabbè l'ho preso ormai! E adesso? E adesso... C'è il del trasporto qua! Non si è a scendere! Almeno io non ero riuscita a rimanere... Ah ok! Fermo fermo fermo! Allora bisogna andare piano! Non aspetta! Quindi quando arrivano gli spuntori non bisogna fare su? No! Dove sono io? Ah ok! Ho sbagliato al tempissimo! Vabbè! Mi ammazzo! Ma sta roba è fottutissima di cervello! Vogliamo parlarne? Ma che spavento! Ha cambiato solo colore e mi sono fatta una paura da sola! Ok! Allora vogliamo... Vogliamo collaborare a Gigio! Ok! Ce l'avevo fatta! Ce l'avevo fatta! Ce l'avevo fatta! Eh sì! Ce l'ho bloccata! Allora! Cappello! Ma dai sti robi esplosivi! Mo' me lo fanno perdere di nuovo! Ok! L'ho preso io il coso! Eh abbiamo perso! Ah no! Ce l'ho preso! Ma no! Io ero arrivata là! Vai 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 vai! Sticotto! Vola! Ah io pensavo che eri già arrivata! 3 e 3! Perfetto! Va bene! Direi che... Io ti esco e ti salgo in testa! Ok! Sì! Che prima eravamo messi strani ma stranissimi! Ciao! Ma sono tutti ragazzi da Messina 91! E da Mikoto! Ciao ciao! Dai psicopatiche! Vabbè io sto qua! Ma sei comoda! Ma ti pare! Ciao ciao!